Sono molto preoccupato di ciò che vedo in giro, se non si interverrà subito, temo che al ritorno dalle vacanze avremo un brutto risveglio dal sogno di esserci gettati il peggio alle spalle. Nenusa mezzi termini Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odonteatri di Napoli e provincia, nel lanciare un'allarme sui comportamenti a rischio che, a suo giudizio, ormai si moltiplicano in ogni ambito della vita sociale. Al di là della retorica è evidente che prevale ormai un clima da liberi tutti, aggiunge Zuccarelli. Questo modo di fare rischia di riportarci a situazioni drammatiche nel giro di qualche mese. A preoccupare i medici di Napoli e provincia è il mix di variabili che si accompagna all'abbandono di qualsiasi voglia precauzione e comportamento responsabile, a cominciare dalla prevalenza sempre più evidente della cosiddetta variante Delta. I dati dei sequenziamenti, prosegue il leader dei medici, ci dicono con chiarezza che entro settembre la variante Delta sarà prevalente e ci dicono anche che questa variante è molto più contagiosa del ceppo originale del Covid. Se da un lato sono ormai cadute quasi ovunque le precauzioni di distanziamento e di igiene, preoccupa che all'aumento dei casi di variante Delta si stia ormai registrando in Campania una vera e propria fuga dai vaccini, che sono l'unica arma che possiamo usare per evitare di ritrovarci a ottobre nel pieno di una nuova ondata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e gli organi sanitari europei e italiani, ricorda il medico, ci hanno confermato che la doppia dose di vaccino è efficace e può proteggerci dal rischio di una nuova ondata, ma nonostante gli sforzi messi in campo dalle ASL e il primato che la campania ha avuta nelle somministrazioni, siamo ben lontani dall'uminuità di gregge. Di qui l'appello dei medici ai cittadini affinché programmino la vaccinazione ancora prima delle vacanze.